chi sono gli slegati chi siamo e io pensavo fossimo pochi pochissimi insomma due o tre marginati psicologici ma poi grazie a questo podcast o forse per colpa di questo podcast ho scoperto che invece siamo in tanti ad avere una voglia pazza dell'altro e però pure una pazza paura allora eccoci di nuovo qui a raccontare le nostre emozioni e le nostre ragioni soprattutto quando mancano perché dai che lo sai lo sai che da qualche parte nel tuo fondo magico e tremendo slegato lo sei anche tu slegati lo siamo proprio tutti nessuno escluso sono chiara gamberale e questo è un podcast di cora media per story tell si chiama gli slegati che ci vorrebbero almeno due vite per capire anzi per sentire meglio la vita che è toccata a noi è un po' il presupposto qui agli slegati e non a caso ve lo dico da camera mia dove io dormo malissimo anzi a volte proprio non ci riesco a dormire passo le notti a passeggiare appena mia figlia si addormenta mentre appena prendo me ne vado ma non importa dove importante è che sia lontano da qui dove ci sono i fili della mia vita appunto io dormo e non c'è niente da fare ci sono persone che dormono regolarmente quando si tratta di dormire e soprattutto se hanno la possibilità di farlo dove sono abituate a farlo cioè nel loro letto e sono persone che mangiano a bocconi lenti che se lo gustano davvero quello che hanno nel piatto gli piace e avete presente le persone per cui un bicchiere di vino può durare tutta la cena tre quattro ore e invece invece ci sono persone che neanche lo vedono che cosa hanno nel piatto perché tanto se lo sono già divorato si vorrebbero mangiare pure il piatto ed è meglio che non lo ordinano un bicchiere di vino perché poi il bicchiere diventa subito tutta la bottiglia è che abbiamo fame abbiamo sete e come può non bastare quello che abbiamo nel piatto o nel bicchiere può capitare che a non bastare a questa fame tremenda a questa sete si ha la persona che abbiamo accanto attenzione io non sto parlando di chi ha le sue sicurezze e però o forse proprio per questo ha bisogno di viversi l'ombra di avere le sue storielle i suoi messaggetti su telegram di nascosto dalla moglie mamma severa oppure dal marito fratellone buono no in questo episodio slegato protagoniste saranno le persone che si ritrovano ad avere proprio due vite o magari anche di più è possibile amare più di una persona alla volta avere voglia sentire il bisogno di costruire con più di una persona un'intimità reale fino al punto di farlo davvero garcia marquez nell'amore ai tempi del colera non ha dubbi scrive si può essere innamorati di diverse persone per volta e di tutte con lo stesso dolore senza tradirne nessuna il cuore ha più stanze di un bordello che ne pensi alessandro? penso che non avendo conosciuto garcia marquez credo di aver avuto con lui un colloquio è piuttosto intenso perché mi ritrovo completamente in queste parole che avrei voluto pensare e scrivere io senti tu da quanti anni stai con Vittoria? sto con Vittoria dal 1985 quindi 37 anni sì un pochino una vita un pochino senti andiamo un po' indietro per andare avanti però si può dire che il primo amore che hai abbracciato come abbracci tu gli amori è stato il partito comunista? no per fortuna no sono un po' più sano di così no è stato un grande amore un grande amore un grande tradimento no io mi sono innamorato molto molto presto a 13 anni in modo adulto in modo serissimo poi certo la politica e la militanza nel partito comunista è stata una forma straordinaria di innamoramento e di passione lunga intensa travagliata sì in qualche modo si può dire ma ha avuto a che fare con la tua educazione sentimentale secondo te? moltissimo moltissimo ha avuto a che fare non tanto la vicenda di partito diciamo alla quale arrivo a un'età già sufficientemente adulta ma quell'ambiente culturale l'ideale quell'insieme di valori sì sì quello senza altro io ho un fratello più grande piuttosto ingombrante che è stata la mia guida nella maturazione di una coscienza politica e nonostante gli anni 70 fossero gli anni della libertà dei costumi della libertà sessuale dell'incontro io mi sono formato ad una etica piuttosto puritana in cui la passione per le donne andava disciplinata e andava irregimentata quindi sì quello è un po' l'imprinting poi certo l'ambiente del partito comunista contribuiva a questa non che fosse popolato da persone ricidissime tutt'altro però diciamo che il formato culturale era quello anche se tu quando dici a 13 anni mi sono innamorato per la prima volta tu naturalmente eri abituato a chiedere e dare all'amore tutto quello che avevi sì io ho sempre dettelo più passa negli anni più me ne convinco di aver avuto un'esistenza al contrario cioè di avere conosciuto un amore pesante adulto serio intransigente esigente all'età sbagliata diciamo all'età sbagliata se mi montassero al contrario sarebbe tutto più semplice appunto che ci vorrebbero due vite chissà quante eh sì senti torniamo a Vittoria la vostra relazione all'inizio com'era? quali erano i punti di forza della vostra relazione? allora innanzitutto io e Vittoria ci conosciamo nel fuoco della passione politica e della militanza è difficile capire oggi che cosa significasse all'epoca però io conosco Vittoria in quell'ambiente facciamo cose insieme condividiamo vita passioni ideali e e la nostra unione nasce lì nasce in quella in quel microambiente speciale eravamo due ragazzini avevamo 18 anni sì era mia coetanea quindi avevamo 18 anni venivamo comunque tutte e due da esperienze pregresse quindi non era il primo incontro serio però abbiamo capito subito che condividevamo molte cose che ci facevano vivere bene insieme senti ai corpi? i corpi parlavano linguaggi un po' divergenti e ci abbiamo messo tanto a carburare e io ci ho messo tantissimo a capire la mia lingua ho capito prima la sua della mia devo dire pensa pensa però tu eri fedele eravate fedeli l'uno all'altro io ero assolutamente fedelissimo lo ero in modo intransigente e direi quasi adesso me ne vergogno un po' ideologico cioè era una fedeltà più di testa che delle iscene assolutamente io prima ho usato il termine puritano pur essendo io totalmente strano ad ogni dimensione religiosa ma l'idea era quella cioè di una fedeltà come fedeltà alla persona ma un'idea prima ancora che alla persona e quindi in tutti questi anni voi rimanete insieme succede un un evento diciamo traumatico in senso tecnico nel senso che io nel all'inizio degli anni 90 passo nove mesi a Barcellona per l'Erasmus e parto che sono una persona e torno che sono un'altra persona come aveva ben intuito il mio professore l'Erasmus serve fondamentalmente a quello a quello sì ed è il suo valore formativo ed educativo più importante io conosco una persona me ne innamoro perdutamente comincia la mia vita la mia vita plurima torno a Milano e la prima cosa che faccio dopo un'ora dall'arrivo in stazione dico a Vittoria è successo questo questo e quest'altro ma questo non significa che io non ti ami non significa che io non voglio vivere con te e lei mi accoglie e lei ti accoglie e dice sì affrontiamola insieme ma anche meno e lei dice boh viviamo viviamo diciamo che in senso tecnico mi dà fiducia cioè crede alle cose che le dico cioè crede al fatto che io la ami ancora che non voglia lasciarla quindi tu comunque sentivi il bisogno di condividere con lei tutto anche le tue inquietudini e questo devo dirti che io mi danno che le persone le persone che finiamo per conoscere meno debbano essere quelle con cui condividiamo l'indirizzo di casa no? cioè è una cosa che non che non riesco a sottolineare forse non a caso infatti vivo sola con mia figlia però vabbè invece quindi tu sentivi comunque sarebbe andata ma sì io devo dire che non è stata quasi nemmeno una scelta nel senso che io non considero la verità assoluta un valore assoluto cioè penso che si possa omettere parte della vita e della verità anche per il bene proprio degli altri quindi non ne faccio una discussione di principi in quel momento io ho sentito di non poter fare altro di non poter fare altro e di doverlo condividere ma proprio perché sentivo il paradosso di una situazione in cui la persona che entrava nella mia vita non sostituiva l'altra non colmava un vuoto ma si affiancava e apriva un'altra finestra apriva un'altra vita e confesso è stato un trauma perché io venivo da quella formazione che vi ho raccontato per cui è stato all'epoca davvero traumatico per me e il mio corpo me lo ha detto in modo molto esplicito però era una forza talmente però rompente che avevi delle manifestazioni d'ansia forti sì sì proprio quando sono tornata a Milano mi ero quasi spento ci ho messo un po' di giorni per tornare dentro il mio corpo perché sentivo di avere trasgredito a un ordine di avere proprio infranto un ordine e non avevo ancora la più vaga idea di come se ne potesse costruire un altro e questa ragazza? questa donna che era più grande di me veniva da un altro paese molto lontano ci siamo trovati entrambi a Barcellona come esuli come viaggiatori è una vicenda che è durata alcuni anni ovviamente a distanza ogni tanto ci si incontrava e poi è tornata al suo paese ed è stato un distacco molto 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 difficile e nel frattempo Vittoria c'era sempre nel frattempo seguiva e cresceva il mio rapporto con Vittoria tanto che abbiamo finito alla fine degli anni 90 per sposarci nel 98 quindi voi comunque attraversate insieme la storia alla fine di questa storia vi sposate e ci rafforziamo e ci rafforziamo sì ah siete più forti tu oggi puoi dire che poi dopo siete più forti assolutamente e arrivano i figli e arrivano i figli primo nel 2000 sì primo nel 2000 e il secondo nel 2005 senti ti piace come madre Vittoria? è straordinaria è straordinaria nonostante lei temesse di non essere all'altezza del compito come spesso capita è una madre diciamo che siamo una famiglia piuttosto 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 bella ti piace essere padre? molto ti piace senti però dici tutto bene perché poi paradossalmente alcune coppie vengono vengono separate dalla nascita dei figli voi invece no come coppia dico questo è difficile a dirsi allora in parte sì in parte no cioè noi ci integriamo completamente come coppia come coppia come posso dire è difficile a dirsi convergiamo e divergiamo allo stesso tempo convergono le nostre anime divergono i nostri corpi e fino a che sul lavoro arriva lei Silvia arriva Silvia arriva Silvia eccola lì eccola lì e Silvia stavo pensando e stavo per dire cambia tutto in realtà parzialmente nel senso che il vero cambio era stato quello di qualche anno prima cioè io ero già mentalmente culturalmente emotivamente fisicamente disposto a a sperimentare nuove vite dentro la mia vita cioè considerare la vita come un fatto plurale non come un fatto singolare e Silvia cresce ci conosciamo lavoriamo insieme creiamo tu quanti anni avevi a questo punto? io avevo 34 anni e Silvia ne aveva 10 di più quindi è uno scenario completamente nuovo completamente diverso e nasce un'amicizia straordinaria che si trasforma lentamente di giorno in giorno in mezzo a diciamo a condizioni molto complesse anche per certi versi molto drammatiche e diventa un amore potentissimo lei era sposata aveva dei figli lei era sposata aveva una figlia ci conosciamo il marito si ammala e il nostro amore nasce nel nel dolore del lutto e di una perdita ed è un fatto decisivo perché lì si si fonde si fondono i destini diciamo non su una trasgressione ma su una unione profonda quindi non si può dire ecco no la banalità vuole a casa mia con mia moglie da quel punto di vista non va più tanto bene allora nasce una pressione appunto tutta fatta di istinto e di e di corpi no qui l'anima ha un valore importante io parlo per me perché perché non vorrei mai io la prima cosa che dico a Silvia è che adesso col senno di poi forse è una sciocchezza ed è una semplificazione ingenua un po' infantile però è guarda che tu non colmi un vuoto io ho una vita qui non rinuncerò a tu questo glielo dici subito? sì subito ma questo non per diminuire la forza di quello che stava succedendo per dirle chi sei per dirle eh bravo per dirle chi sono per dirle chi sono e in tutte la vita è fatta proprio di 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 incastri anche fortuiti cioè in quel momento nel momento drammatico che stava vivendo Silvia forse questo era quello che che serviva entrambe e ci siamo aiutati in modo assoluto in modo si somiglia no? Silvia e Vittoria? no no direi di no direi di no sono due donne sono due donne diverse io e Silvia parliamo la stessa lingua dei corpi e dell'anima quindi l'inconscio sì l'inconscio sì senti ma a quel punto che succede? nel momento in cui c'è questa tensione così forte che più che una tensione è proprio una fusione lei non te lo chiede di nonostante tu le abbia detto io sono fatto così non ci prova non ti chiede di lasciare vittoria? sì 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 la storia è incredibile per certi versi è originalissima ma a meno di quanto possa sembrare nel senso che all'inizio ovviamente la prospettiva di una vita comune si è posta si è posta si è posta nei modi più strani nei modi più diretti e nei modi più indiretti ed è stata comunque una presenza latente nella nostra e quindi sì si è posta poi tanto più quando Silvia è rimasta sola aveva un'età ancora per costruirsi una vita diversa però diciamo ecco qui sì che interviene l'aspetto secondo me più a cui io tengo di più che la vita mia con Vittoria la vita mia con Silvia si fondono cioè Vittoria e Silvia diventano si conoscono si piacciono Vittoria sa Vittoria col tempo sa sa e nonostante sappia accoglie Silvia in casa Silvia ha avuto un rapporto molto intenso con i miei figli piccoli e Vittoria è stata così straordinaria e generosa e anche sicura di sé io credo da permetterle di stringere con i miei figli piccoli un rapporto speciale quindi io ricordo serate stupefacenti di armonia e di condivisione però non verbalizzate mai cioè non c'è mai lo showdown cioè il momento io e Vittoria pochissimo verbalizziamo pochissimo verbalizziamo solo in momenti topici diciamo con Silvia di più con Silvia invece anche se molte cose solo negli ultimi anni sono se ripenso con gli occhi di oggi a quegli anni mi viene una tenerezza perché c'erano molte cose non dette molte cose che non sapevamo dirci ma che forse non sapevate neanche voi di voi stessi non avevamo nemmeno le parole per dirci e non avevamo nemmeno la maturità che non è una questione anagrafica ovviamente non avevamo la maturità emotiva ed affettiva per dirci che oggi abbiamo io credo che la maturità di una coppia sia data proprio dal tempo passato insieme io sono un uomo storico un uomo storico la parola vera che mi che mi racchiude storia senti ma da vent'anni quindi Alessandro com'è strutturata la tua vita da ventitré e beh certo quei tre sono importanti perché stiamo dicendo l'importanza del giorno dopo giorno dopo giorno ma com'è strutturata la tua vita la mia vita è strutturata cioè com'è com'è complicata no no nemmeno piuttosto semplice nel senso che il fatto di avere condiviso per tanti anni con Silvia la dimensione lavorativa fatto sì che quel luogo diventasse una specie di casa famiglia eh sì in tutti i sensi per cui è il fatto che sul lavoro non solo condividessimo lo spazio ma condividessimo perché poi l'intelligenza delle aziende è tale per cui capisce che è vantaggio dell'azienda alimentare questo meccanismo per cui ne eravamo straordinari cioè ogni anno generavamo un figlio fatto di carta e con una copertina che lavoravate per una casa editrice sì sì e quindi eravamo particolarmente produttivi perché il fuoco che alimentava la nostra produttività era la passione l'amore ed estate ad esempio a Natale che sono i momenti topici momenti bellissimi momenti difficili luglio era un paradiso era il mese della nostra diciamo del nostro matrimonio nel senso che Vittoria soprattutto quando i bambini erano piccoli partiva per il mare noi continuavamo a lavorare a Milano e condividevamo non solo lo spazio del lavoro ma lo spazio della vita anche le notti perché tu invece di solito hai sempre dormito a casa con Vittoria e con i ragazzi assolutamente e le feste comandate invece erano più traumatiche perché ovviamente erano riservate alla famiglia anche con qualche sofferenza e con qualche insomma con qualche tensione tu sei grato a queste donne che hanno capito così profondamente chi eri chi sei da non chiederti qualcosa se loro l'hanno capito bisognerebbe darle un premio ma suppongo che ci siano andate vicino senz'altro più di quanto avevo fatto io sì sono sono innamorato di queste donne perché hanno non tanto capito non so cosa si possa capire ma hanno in qualche modo accolto una diversità che sfuggiva loro perché mentirei se dicessi e se pensassi che Vittoria e Silvia accettino completamente non lo so devo dire cioè tu non le vivi mai come vittime tue no ecco questo no questo no ci ho messo molto tempo per emanciparmi dalla visione del carnefice e dall'idea che loro fossero vittime ho dovuto trovare persone più competenti di me che mi spiegassero che queste donne erano grandi forti mature abbastanza per accogliere per scegliere per scegliere anche perché magari guarda io Alessandro mi sono convinta di una cosa nella vita che ci sono persone che guardandomi intorno io vedo che gli uomini e le donne che non danno alla persona con cui vivono poi anche come amanti non è che sono così generosi cioè paradossalmente più si dà più si dà almeno guardandomi intorno io trovo che questa sia una verità assoluta nel senso che è un po' incandescente da dire però io devo dire che guardandomi intorno è così cioè gli amanti quello che mi viene raccontato quello che so è che meno sei generoso come amante meno lo sei anche a casa con la persona assolutamente io sono una persona molto incline all'autocritica e piuttosto semmai all'autodistruzione non sono certo e ho fatto molta fatica ci ho messo molto tempo a capire questa cosa e a liberarmi dal senso di colpa e mi ha aiutato molto la percezione fisica ed emotiva di una mia generosità come dire generosità proprio affettiva cioè do molto tolgo molto distruggo molto ma costruisco molto e do molto poi non so se sia un valore questo molto non ho idea vabbè sì abbiamo cominciato questo episodio finché non mi mandano al diavolo diciamo credo di sì diciamo che appunto se ci sono persone a cui fa paura e persone a cui evidentemente invece paura proprio non fa come Vittoria e Silvia quindi possiamo dire che tu sei fedelissimo però non sei monogamo possiamo per ora sì 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 assolutamente questa è una delle pochissime cose che ho capito io per dirle in un altro modo mi sono accorto di essere politeista e quindi di dedicare diciamo un sacro furore a più a più divinità ma e sei geloso questa non mi dire di no di sì diciamo meno di quanto pensassi lo sono ma in una misura ragionevole ed educata dall'esperienza questo a questo tengo moltissimo nel senso che lo ero in modo assolutamente irrazionale come è la gelosia ma nel corso degli anni ho imparato a ho provato faticosamente a mettermi anche nei panni dell'altro e perché insomma la verità è che finché io non mi fossi trovato dall'altra parte non avrei potuto capire né le sofferenze né la ricchezza di questa esperienza siccome negli anni è successo e mi sono stupito nello scoprirmi più accogliente e meno e meno irrazionale rispetto a tutte e due sì rispetto a tutte e due tu pensi che l'esclusività non ci pensi mai Alessandro al fatto di dire certo come sarebbe ecco metticelo tu l'aggettivo come sarebbe facile facile sì no lo penso perché non sono così pazzo da non pensare lo penso spesso lo penso spesso però devo dire che ecco questo è un pensiero che ho fatto proprio recentemente cioè io non credo a una vita ultraterrena non c'è credo che l'unico valore sia vivere senza risparmio intensamente la vita e quando avrà il tempo di lasciarla non avere rimpianti non avere ecco io credo in questo momento della mia vita credo di vivere con grande intensità beh mi pare che l'hai sempre fatto però l'ho sempre fatto ma ora più più che mai ora più che mai in questo momento quindi più passano gli anni paradossalmente più e più ringiovanissimo più lo dicevamo invisibilmente invisibilmente senti e con i tuoi figli hai adesso che sono grandi hai avuto un confronto con uno sì col piccolo che allora io ho sempre pensato che avrei voluto parlarne con loro perché per una questione non tanto di onestà e di trasparenza ma di verità e però ho sempre pensato che non potesse scatturire da un atto forzato da un atto da una volontà stratta ma che dovesse maturare un'occasione col più grande non è mai maturata fino adesso col più piccolo sì abbiamo trascorso una serata straordinariamente intensa lui si è pacificato ha capito e mi sembra così di poter dire che che mi ha colto anche lui ma io sai che sono convinta da questa storia che forse sbaglio non lo so anche la mia bambina è così piccola che ha cinque anni eppure io le parlo ovviamente con delle parole che lei può capire perché sarà che appunto sono figlia di una generazione di genitori che non erano abituati a spiegare forse perché nemmeno loro capivano le loro incoerenze e ho sofferto tanto le presenze nascoste fra le cose che non si dovevano dire e io sono convinta che questo sforzo sia sempre uno sforzo benedetto questo sforzo di dire a chi amiamo guarda che io sono fatto così sono convintissimo io sono guarda in questi ultimi mesi sono riuscito a farlo tranne che con mio padre con il quale non sono sicurissimo di riuscire ma per tanti motivi che non sto a spiegare e quello però forse pure fa parte invece della vera crescita non aver bisogno di farlo credo forse mio padre mi stupirebbe e capirebbe più di quanto io sia convinto che possa capire in realtà ne ho parlato con i miei familiari perché mi sono detto a un certo punto che certo c'è una dimensione privata che non appartiene loro però siccome questa vicenda sono io io non potevo pensare di negare me stesso alle persone che amo e quindi sono riuscito a raccontare a mia madre a mio fratello questa vicenda sperando che non mi giudicassero ma sei tu anche scusami se te lo lo saprai però penso che sia un piccolo capolavoro dato tutto far sì che queste due donne non si facciano la guerra dipenderà anche da loro perché in una situazione come la tua di solito entrambe le donne finiscono per erotizzare l'altra donna e dimenticarsi un po' dell'uomo cioè per io sì io penso che entrambe abbiano capito che si colga il paradosso che però è estremo ma reale sono state l'una la garanzia dell'altra e infatti il fatto che che condividano cose e che trascorrono anche del tempo comune quando capita in qualche modo si sono sostenute si sono sostenute anche momenti molto difficili momenti di malattia momenti di insomma di dolore di sofferenza quindi sì è un po' un miracolo è un po' un miracolo senti ma Alessandro te la becchi la domanda anche tu slegati si nasce o si diventa si diventa si diventa si diventa secondo me nel senso che io non credo al determinismo cioè io non penso che sia a volte mi è venuto di pensare che io fossi così prima ma fossi ingabbiato dentro un'armatura culturale ideologica forse è vero ma è anche vero che io dentro quell'armatura vivevo naturalmente poi ho vivendo ho scoperto cose ho incontrato cose ho fatto esperienze che hanno modificato se c'è un valore che credo di potermi portare a casa da questa vicenda è di essere aperti al cambiamento su di sé dico eh non solo nella vita esterna ma su di sé cioè di non credere troppo di essere una cosa sei felice tu? sono felice sì fondamentalmente sì grazie grazie davvero Alessandro e per te ma anche per noi tutti come fosse un abbraccio Walt Whitman mi contraddico va bene e allora mi contraddico sono vasto contengo moltitudini la seconda stagione degli slegati è una produzione di Cora Media per Storytel è scritta con la collaborazione di Elisa Del Mese la cura editoriale è di Sabrina Tinelli la produzione esecutiva di Ilaria Celeghin il sound design e la sigla sono di Luca Micheli la post produzione è di Mattia Liciotti la finalizzazione è di Guido Bertolotti l'editing e la redazione sono di Francesca Bruzzese i fonici di presa diretta sono Michele Boreggi e Matteo Miavaldi i fonici di studio Aurora Ricci Emanuele Moscatelli Federico Martucci e Luciano Zirilli